in questa seconda run Ed ora alla Slovenia Kof, Hocevar e Znidarsic Ecco la Slovenia alla seconda manche Ricordiamo che nella discesa a squadre il cronometro parte con la partenza del primo concorrente gli altri due concorrenti sono leggermente indietro e partono dopo pochi secondi allo start del giudice e all'arrivo il cronometro si ferma con l'arrivo del concorrente che è più indietro di cui la necessità e la convenienza che il gruppo sia il più compatto possibile Qualche piccolo problema per uno dei due concorrenti dopo la rapida del sasso dove c'è un salto abbastanza difficile A little problem for one of the paddlers after